Nonostante la giovane età erano riuscite a impossessarsi di una grossa fetta del mercato di stupefacenti, riuscendo a conquistare la fiducia dei grossisti del quartiere che li rifornivano di droga. Così un piccolo ma dinamico gruppo di giovani pusher era riuscito in pochi mesi a trasformare la zona di Piazza Dante a Catania in un vero e proprio via vai di spacciatori e clienti. Un traffico quotidiano che, come dimostrano le rimprese effettuate dalle telecamere nascoste dei carabinieri, iniziava dalle 14 del pomeriggio e continuava senza sosta fino alle 21 della sera. Una situazione che era diventata insostenibile per i residenti della storica Piazza Dante e che si svolgeva praticamente a pochi metri dalla caserva dei carabinieri. Dalle indagini partite lo scorso marzo è emerso che la clientela privilegiata di questa frenetica e redditizia attività di spaccio era soprattutto quella degli studenti universitari. In manette sono finite quattro persone, Orazio D'Agata di 21 anni, Gianluca Del Galdo e Agatino Giuseppe Maccarrone, entrambi di 27 anni. Un 32enne è finito invece agli arresti domiciliari mentre un giovane di 15 anni è stato trasferito in una comunità di recupero in provincia di Agrigento. Sono tutti accusati a vario titolo di concorso nel reato di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno sequestrato un mezzo chilo di marijuana e 50 grammi di cocaina.